a Pietro Ghislandi. Ciao a tutti, state bene? Tutto ok? L'altro giorno, in una delle mie valli bergamasche, un contadino dice a un amico, hai dato da bere all'asino? Lo traduco, Gdabiladen. Quello lì lo cerchiamo da un sacco di anni, sta a vedere che magari è nascosto in una cascina di Bergen da Hurra. Poi... Oh, per favore. Grazie. I miei contadini.